Salve a tutti, in questo video parliamo della deframmentazione del disco di Windows 10 e di cose da sapere. Allora, la deframmentazione del disco non è altro che la rilevazione di file frammentati su un hard disk e se ci sono troppi file frammentati è consigliato fare una deframmentazione, appunto che sarebbe riunire tutti questi file. Attenzione perché non stiamo parlando di file fisici spezzati in più parti nel vero senso della parola, è una cosa di file system, comunque coordinando tutti questi file a livello di file system si hanno delle ottimizzazioni sulla velocità, sull'avvio di Windows, appunto sull'esecuzione di programmi, eccetera. Allora, però c'è una cosa da sapere, sull'SSD la deframmentazione non è utile, anzi è deleteria perché va a ridurre il ciclo vitale, visto che gli SSD si esauriscono con la scrittura dei file e la deframmentazione non è altro che una scrittura, quindi non è consigliabile farla. Però il programma di Windows 10 fa un'eccezione, quindi allora se avete un programma qualsiasi di deframmentazione non andate che non sia quello di Windows, non andate volontariamente a riseguirla sull'SSD perché non serve, già l'SSD è velocissimo, quindi non ha senso farlo, ma potete tenere la pianificazione su quello di Windows 10. Andiamo a vedere intanto come richiamare il programma di Windows 10 della deframmentazione, andiamo qua sulla ricerca e scriviamo deframmenta, clicchiamo qua su deframmenta e ottimizza unità, ed eccolo qua. Allora di base lui ha già riconosciuto che il mio C2 è un'unità SSD, poi ho due hard disk e c'è scritto 0% frammentati, allora quando è consigliabile fare la deframmentazione? Quando questa percentuale è 10% o superiore, quindi in quel caso l'hard disk è molto frammentato ed è consigliabile eseguirla. Se però voi lasciate la pianificazione non ci sarà mai bisogno perché si occupa Windows di farla una volta ogni tanto. Quando? Lo potete vedere da qua, ottimizzazione pianificata, modifica impostazioni. Di base lui la fa una volta alla settimana, consiglio di lasciarlo, se no potete scegliere una volta al giorno o una volta ogni mese. Non consiglio di mettere una volta ogni giorno per non stare a fare tutte queste scritture continuamente, secondo me va bene, una volta alla settimana. Allora, esegui in base a una pianificazione, scelta consigliata, infatti anche Windows dice di spuntarlo, tenetelo spuntato, unità scegli, lasciate pure tutte le unità spuntate, anche l'SSD. Perché? Io appunto ho detto che l'SSD non va deframentato, infatti Windows 10 si limita sulle unità ssd ad eseguire il comando trim, quindi lui non fa un defrag vero e proprio su queste unità ma fa un trim. Senza stare a spiegarvi nel dettaglio cos'è un trim, comunque è un comando che di default sui SSD è già attivato, quindi se non andate a disattivarlo voi è già attivato, infatti non dovete disattivarlo. Nel vostro programmino dell'SSD, in questo caso io ho quello della Samsung, potete anche vedere se è attivo il trim, ad esempio. Il trim serve per migliorare la salute, per preservare ecco la salute dell'SSD, quindi conviene tenere l'attivo. Windows 10 va semplicemente ad eseguire un trim, che è una cosa consigliata, quindi conviene lasciarlo una volta alla settimana qua nella pianificazione. Mentre le altre unità vanno fisicamente ad essere defragmentate, qualora non siano SSD. Quindi fortunatamente il programma di Windows 10 è intelligente, però se voi prendete un programma che non ha questo riconoscimento automatico dell'SSD oppure non fa distinzione, quel programma va fisicamente a defragmentarlo. Ora io non conosco gli altri programmi perché non li uso, quindi non so chi fa la stessa cosa di Windows 10, che magari vai a seguire solo un trim e chi no. Però ecco, state attenti a questa cosa, non andate a defragmentare con programmi vari le unità SSD se non sapete che cosa fa esattamente quel programma sulla vostra unità SSD. Quindi, ricapitolando, tenere la pianificazione con tutte le unità attivate senza nessun problema, una volta alla settimana va benissimo. Qua dentro voi potete eseguire manualmente la frammentazione con ottimizza, fate prima un'analizza e poi ottimizza. Faccio analizza, ad esempio mi dice ok 0%, perché appunto lui eseguendo ogni settimana la defragmentazione me l'ha tenuto in salute, 0% ottimale. Potete manualmente cliccare su ottimizza e lui può fare la defragmentazione. In questo caso non ha fatto niente perché non c'era niente da defragmentare. Questo è quanto. Un saluto a tutti.